amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati puntata speciale 16 mesi dopo le alluvioni del 3 e 16 maggio del 2023 la romagna è di nuovo alluvionata colpa della pioggia del cambiamento climatico o ci sono responsabilità nell'amministrazione del territorio e magari si può andare ancora più a monte e cerchiamo di capirlo e sicuramente oggi capiremo molto molto di più assieme ai miei ospiti di oggi li presento subito do il benvenuto a paolo svegli presidente di del comitato alluvionati emiliano romia romagnolo 2023 alluvionati consapevoli benvenuto grazie ben trovati a tutti benvenuto al geologo roberto iraci grazie buonasera a tutti e benvenuto gilberto trombetta l'amico gilberto trombetta giornalista economico ben trovato carlo ben trovati agli ospiti ovviamente i nostri ascoltatori allora partiamo subito con roberto i raci geologo allora ci sono che tipo di responsabilità ci sono possiamo già fare mettere dei punti fermi in questo senso beh guardi un alluvione è un fenomeno sicuramente complesso che è dovuto a varie cause alcune sono occasionali e altre sono invece di strutturali diciamo quindi di predisposizione di un determinato territorio si dice spesso che sicuramente quelle strutturali cioè la morfologia del luogo la possibilità che l'acqua che esondi tende a ristagnare è sicuramente un dato della pianura romagnola per quelli occasionali si fa secondo me molto ricorso e anche in maniera forse non troppo appropriata ai cambiamenti climatici nel senso che le piogge che hanno portato all'alluvione del 2023 e l'ultima purtroppo recentissima del 2024 sono sicuramente piogge molto intense e possono essere collegate ai cambiamenti climatici cioè la frequenza con cui si stanno verificando è sicuramente allarmante ciò non significa che il nostro ridicolo idrografico nelle condizioni corrette in cui di quelle esistenti non sia in grado di reggere le piene dei fiumi conseguenti alle piogge e che quindi queste queste alluvioni non possono essere evitate né testimone nell'ultima alluvione il caso di faenza dove il fiume lamone che nel 2023 era straripato ben due volte questa volta non è straripato è straripato un affluente su cui non erano state fatte nessun tipo di opere ma che ha allagato una parte della città il borgo di faenza però la città di faenza questa volta non è stata allagata dall'alluvione del fiume il che vuol dire che nonostante queste piogge che ancora si stanno analizzando ma nonostante anche io me ne sto interessando proprio di analizzarle all'interno dei vari bacini ma nonostante pare che possono essere addirittura più intense di quelle cadute nel 2023 in verità non hanno alluvionato faenza il che vuol dire che anche l'alluvione del 2023 potevano poteva essere in qualche modo evitata se la strutturazione generale è la lo stato di conservazione lo stato di manutenzione del reticolo grafico fosse stato idoneo io non sono le dico che sono ho visto molti commenti a volte mi resto amareggiato perché vedo che si tende a fare una guerra di religione sugli alberi sì alberi no non è questo il tema il tema è che le cose le strutture le infrastrutture devono essere mantenute nel modo corretto quindi se un fiume non è più un fiume naturale ma un fiume canalizzato da secoli perché da secoli abbiamo bonificato la pianura abbiamo fatto dei reticoli di drenaggio per drenare via l'acqua anche delle risorgive e poi abbiamo fatto degli argini per canalizzare i fiumi quindi i nostri fiumi non sono fiumi che scorrono allo stato naturale questo ce lo dobbiamo mettere in testa la mano dell'uomo li ha modificati e li ha modificati anche con sapienza cioè l'ha fatta in maniera corretta e riuscita a dimensionare degli alvei artificiali con delle arginature tale da contenere anche le portate storiche quelle di cadenza secolare bisecolare anzi le dico di più che nell'antichità e anche quando sono state realizzate le infrastrutture che contengono i flussi di pena di questi fiumi nella romagna non sono state fatte facendo dei calcoli idraulici o idrologici perché non c'erano le stazioni meteo in montagna banalmente non c'erano dei calcoli ingegneristici sono state fatte qualcuno lo può trovare disprezzante sono state fatte a occhio avendo esperienza di ciò che la storia insegnava un territorio e sono state realizzate per contenere quelle piene che erano le piene che avevano visto con i loro occhi gli abitanti di quel territorio e l'ingegneria di quel territorio cosa voglio dire proprio per mettermi in armonia con gli amici che giustamente hanno a cuore gli alberi che nessuno dice che gli alberi sono la causa dell'alluvione dell'Emilia Romagna ma stiamo dicendo che la mancata corretta manutenzione del reticolo idrografico ha una grossissima parte ma una parte molto importante perché quest'ultima alluvione ci ha ulteriormente dimostrato essendo già in fase di analisi degli alluvioni precedenti quelle del 2023 ci ha dimostrato che i punti in cui i torrenti sono esondati maggiormente o hanno rotto gli argini sono quelli in cui subito a valle l'alveo era totalmente imboschito è bellissimo un alveo imboschito pensate c'è demanio è pieno di bosco dovremmo essere tutti contenti perché dal punto di vista di matrice ambientale è una cosa bellissima peccato che quell'alveo non è ripeto ancora una volta l'alveo naturale quella è una canalizzazione artificiale pensata per far scorrere l'acqua va da sé senza complessi calcoli idrologici e idraulici che se l'alveo occupato dagli alberi dei tronchi già c'è volume in meno per l'acqua quindi abbiamo una riduzione di volume se per giunta le chiome creano un ostacolo al deflusso lo rallentano e non siamo in una condizione collinare dove gli alberi aiutano a trattenere il terreno riducono l'erosione siamo in una pianura che più pianura non si può siamo in una pianura dove l'acqua fatica a defluire verso il mare tant'è vero che la mareggiata dell'atriatico è già un pericolo perché rischia di non far defluire la piena quindi non abbiamo questa esigenza che a tutti quanti correttamente ci hanno insegnato che gli alberi aiutano a proteggere dalle alluvioni in quel contesto l'albero è soltanto un ostacolo un ostacolo ma è così è un ostacolo e in tutti i punti come traversara come la foto che vediamo allegata dove si vede il ponte pedonale di traversara dove si è rotto l'argine ed è successo quello che è successo subito al pia valle siete dove l'acqua si vede limacciosa fangosa ma subito dopo il marroncino che si vede sono avanzi proprio vegetali sono tronchi probabilmente lasciati lì da lavori di pulizia parziale del 2023 anzi abbiamo un po testimonianze raccolte che dicono che appunto non sono mai stati prelevati questo questi sfalci e queste potature o quel che viene da monte però vi voglio dire che la presenza del legname nel torrente a me non impressiona perché durante un alluvione ovunque è staccata specie nei nostri appennini è normale che pensate alle frane che ci sono state a monte è normale che del materiale possa scorrere la cosa anomala è che il materiale venga bloccato a valle ecco perché continuo a pensare che la cosa anomala sia il bosco nell'alveo perché quello non è un alveo è un canale è un canale fatto per far scorrere l'acqua che non è non è una cosa negativa se da monte c'è una frana interi alberi possono unire a valle ma se questi alberi scorrono nel fiume nel canale liberi arriveranno a mare senza nessun problema se invece io ho il ponte di boncellino ferroviario che giustamente a un certo punto fa da diga e quindi ha trattenuto e se poi dopo quel ponte nel 2023 c'era un vero bosco anche lì e infatti lì si ruppe l'argine per ben due volte perché venne ricostruito dopo l'alluvione del 2 3 maggio ed è di nuovo ricrollato nell'alluvione del 16 17 e allora se un territorio ha delle malattie così ormai evidenti cioè dei sintomi così chiari che le cose accadono sempre in dei punti bisognerà pure chiedersi e aggiustare il tiro sulle nessuno chiaramente che l'amministrazione del territorio abbia la visione completa ma caspita imparare però sì ecco certo certo e paolo paolo svegli e allora il mainstream come si è cosa ha comunicato cosa ha narrato e parlano di eccezionalità di eventi no atmosferici ma quando degli eventi sono frequenti no eh in questo senso ma parliamo anche di tantissimi altri eventi nella nel territorio anche italiano e non sono più eventi eccezionali a quel punto bisogna eh bisogna farsi una ragione che comunque sono eventi eh che si ripetono insomma non sono più eccezionali comunque la pubblica opinione ha eh come possiamo dire ha creduto a questa a questa comunicazione diciamo della di tv e giornali purtroppo la pubblica opinione dimostra ancora una volta che decide prima da che bocca deve uscire la verità e ripete a pappagallo qualunque roba gli venga detta eh a me fanno sorridere purtroppo anche in queste situazioni drammatiche eh le dichiarazioni che è colpa del cambiamento climatico io dico ragazzi il cambiamento climatico ci state dicendo che c'è da più di vent'anni ora avete avuto più di vent'anni tutti quelli che ci credono nel cambiamento climatico e quelli che ci hanno governato ci stanno dicendo che c'è sto cambiamento climatico quindi non hanno scusanti più di vent'anni per adeguare il territorio al cambiamento climatico dove mi pare sia abbastanza logico aspettarsi piogge torrenziali improvvise copiose concentrate in poche ore in pochi giorni allora se la risposta al cambiamento climatico sono opere che non sono state fatte perché c'erano delle vasche di laminazione c'erano delle vasche di contenimento vasche di espansione fatte per contenere a monte i fiumi e poi come ha detto il geologo eh voglio dire lì si spara sulla croce rossa nel momento nel quale ci sono gli alberi che rimangono in mezzo al fiume e con il cambiamento climatico con le piogge eccezionali non possono che fare da ostacolo a qualcosa che viene giù improvvisamente in maniera tumultuosa quindi il il pubblico eh le persone purtroppo hanno deciso che se come hanno creduto la volta scorsa che non pioveva così da 200 anni e pare che non sia vero cioè che ci siano proprio dimostrazioni scientifiche raccolte di dati che dimostrino che non è vero questa volta dirai colpa cambiamento climatico però signori ripeto mettetevi d'accordo col vostro cervello perché se il problema è cambiamento climatico avete avuto vent'anni per sistemare le cose se poi ci accorgiamo che vi siete accorti come dopo il 23 che bisognava tagliare gli alberi in mezzo ai fiumi ehi la foto di prima ci fa vedere una cosa abbastanza precisa che gli alberi sono stati tagliati e poi sono stati lasciati lì e anche qui qualcuno ha provato a dire non so se vorranno continuare su questa pista perché diventa un po' pericolosa ma qualcuno della regione tanto per non far nomi ha provato a dire no no quegli alberi lì li ha portati giù il fiume ragazzi non è vero quegli alberi lì perché dicevano i lavori noi li abbiamo fatti abbiamo portato via tutto abbiamo i testimoni oculari e voglio dire di più chi ha visto che i figli alberi i tronchi venivano perché sono tronchi non sono né potature né sfalci ragazzi sono dei tronchi grossi così io questi li chiamo tronchi non li chiamo potature i tronchi grossi così lasciati in mezzo all'alveo del fiume quando i cittadini sono andati dai loro sindaci a dire ma vi rendete conto che adesso è peggio di prima che se arrivano a piena questo va a sbaracare il primo ponte che trovato ci hanno già detto che staremo senza la ferrovia per un po' tra parentesi qua a russi ho già sentito il sindaco che ha detto che staremo senza ferrovia per un po' perché i tronchi il cambiamento climatico colpa del cambiamento climatico i tronchi sbattono nei ponti e si sta senza treno tutti allora quando al sindaco è stata fatta presente sta cosa la risposta è stata non ci sono le risorse allora a me sta risposta qui mi manda giù di testa già da sola perché si trovano le risorse per fare un mucchio di cose in italia compreso andare a fare la guerra un giorno per l'altro compreso fare le festi festival perché voglio dire in 16 mesi non ci sono le risorse io vorrei vedere il bilancio del comune che ha detto che non c'erano le risorse se non hanno fatto tante altre cosine o il bilancio della regione che non c'erano le risorse e hanno comprato tante altre cosine allora non ci sono le risorse ma la risposta è stata ancora aggravata da una prosecuzione dicendo però se ci sarà l'emergenza le risorse le troveremo è infatti andata così quando ha cominciato a piovere forte martedì una signora del nostro comitato ha visto finalmente una ruspa che cominciava a togliere la roba ma gli ha detto ragazzi sta piovendo già ci sono previsioni brutte pensate di farcela sì sì peccato che lei è sfollata da quella casa di mercoledì e i tronchi erano ancora lì quindi qui si cerca di nuovo di mistificare tutto quanto non è colpa di nessuno e adesso bisogna fare le assicurazioni bisogna trovare delle soluzioni da scaricare a valle la colpa non è di chi non ha gestito il territorio di chi non è stato capace nemmeno in 16 mesi di prendere i tronchi tagliarli dove davano fastidio e toglierli da lì che non sarà la soluzione definitiva perché vanno fatte anche le vasche di laminazione che hanno fatto a metà la metà di quelle 23 che dovevano fare secondo progetti che hanno più di 10 anni e alcuni anche più di 20 e poi hanno restituito 55 milioni di euro e non lo diciamo noi che siamo un comitatino lo dice open che è tutt'altra che un'attestata complottista poi c'è questa meravigliosa delibera 195 come vediamo in sovrimpressione del 13 maggio del 13 febbraio 23 quando ancora andava tutto bene e dove si è pensato in maniera geniale di togliere un milione quasi sono 933 mila euro dal budget che doveva sistemare citato fiume lamone progetto di messa in sicurezza delle località mezzano villanova e traversara traversara dove ha rotto il fiume la rotta che abbiamo visto prima sono venuti giù quattro case la gente non si è ammazzata per puro miracolo ci sono altre quattro cinque casi pericolanti un borgo totalmente distrutto perché perché abbiamo dovuto spostare con parere contrario scritto in delibera dei tecnici perché qui si è deciso perché bisognava far così per andare a finire un lavoro da 55 milioni di euro per cui evidentemente avevano restituito i soldi troppo presto a parma a colorno e però qui hanno tolto 933 mila euro su un milione e due quindi praticamente è deciso che il progetto non lo fai più dopo mancano i soldi ecco questi sono i deliri che abbiamo dovuto vedere dico l'ultima perché bisogna capire veramente le modalità con le quali si muove la regione di fronte a queste dinamiche e di fronte a queste problematiche di cambiamento climatico se le vogliono chiamare così a me va bene ci sono c'è una figura che si chiama il sorvegliante dei fiumi il sorvegliante che è uno dipendente dalla regione che va a vedere come stanno i fiumi e ti dice guarda qui bisogna tagliare che bisogna sistemare che bisogna allargare benissimo tra il 22 e il 23 anche lì in vena di risparmiare due soldini hanno tolto questa figura dopo maggio 23 l'hanno rimessa o dice finalmente è un capito che dovevano intervenire sorvegliati i fiumi dicembre 23 l'hanno ritolta questo è il modo nel quale noi dobbiamo dire grazie a chi ci amministra che adesso ci dirà che dobbiamo farci le polizze individualmente perché è un problema troppo grande secondo me è un aspetto veramente grave di tutta la vicenda perché qui secondo me c'è l'aspetto troviamoci il lato l'alibi diciamo per per favorire economicamente i soliti noti gilberto diceva il presidente del comitato alluvionati paolo svegli mancano le risorse e qui economiche e qui ovviamente ti invito a nozze però sono stati toccati altri punti vuoi partire da qualcosa altro andiamo sulle risorse volevo contestualizzare un po con qualche dato rapidamente perché tutto quello che hanno raccontato gli ospiti precedentemente fa capire una cosa che era già evidente a chi conosce il fenomeno o i dati sottostanti che si tratta di una tragedia annunciata e per definizione una tragedia annunciata è anche una tragedia evitabile perché dico questo perché come hanno giustamente sottolineato le problematiche territoriali dei singoli territori che compongono tutto il paese sono note sono note sia storicamente per l'esperienza degli abitanti che quei quei territori li vivono da secoli ma a maggior ragione sono note e conosciute nel dettaglio negli ultimi decenni da quando esistono le banche dati gli studi l'ispra cioè tutto il rischio idrogeologico e sismico italiano è mappato centimetro per centimetro si sa perfettamente quando sono le zone più a rischio di cosa e perché fatto sta che l'ispra che è un istituto governativo pubblico quindi non un ente privato che fa ricerche astruse che non conosce nessuno ci dice da anni mappando i singoli territori che in italia quasi il 19 per cento del territorio nazionale è classificata a pericolosità fra elevato molto elevata o rischio idraulica medio alta cioè alluvioni quasi il 94 per cento dei comuni italiani cioè 7500 circa è a rischio per frane alluvioni o erosione costiera parliamo di milioni di abitanti circa 8 milioni che sono a rischio o frane o alluvioni parliamo di circa il 20 per cento degli edifici totali italiani per quanto riguarda frane alluvioni e ancora di più per quanto riguarda il rischio sismico che coinvolge circa il 40 per cento degli edifici italiani quindi tutti i rischi sono perfettamente conosciuti mappati si sa dove dove c'è il rischio e anche come intervenire il problema che questi interventi che sono programmati eh da anni e di cui si sa anche i costi quantomeno le stime di costi nella larghissima parte dei casi non vengono effettuati se noi andiamo a vedere i dati dei rendis che prende in considerazione solo i progetti per la mitigazione del rischio eterogeologico presentati ovviamente i progetti presentati non coprono tutto il rischio eterogeologico del paese anche perché questo magari lo raccontiamo dopo per quello che stavano raccontando prima gli altri ospiti oggi le figure professionali nei comuni soprattutto piccoli per stilare un progetto di un certo tipo non ci sono neanche più perché sono state tagliate ma anche solo prendendo per buono i circa 8.000 progetti 7.800 errotti presentati per la messa in sicurezza solo dal rischio eterogeologico beh ma ne sono stati come dire effettuati su per giù il 10% sono stati stanziati 6 miliardi su quasi 40 miliardi necessari mancano i soldi cilberto sostanzialmente è quello ma perché mancano i soldi effettivamente se noi andiamo a vedere i dati nazionali gli investimenti pubblici per esempio vengono tagliati da tantissimi anni c'è il patto di stabilità e crescita che è vero che ha impattato a livello nazionale ma soprattutto è impattato a livello delle amministrazioni locali sulle regioni sui comuni perché si chiede il pareggio di bilancio si chiede di ridurre il numero di dipendenti pubblici ma molti pensano che l'italia è piena di dipendenti pubblici e i dati ci raccontano l'esatto contrario cioè che l'italia è il paese col più basso rapporto tra dipendenti pubblici e popolazione di tutta europa e non perché l'italia non computi all'interno di dipendenti pubblici delle categorie che gli altri invece computano anzi se stiamo a vedere le definizioni è l'esatto contrario tipo personale sanitario quello dell'esercito che per esempio la germania non computano i dipendenti pubblici stessa cosa vale per le partecipate pubbliche l'italia i rapporti dipendenti più basso e soprattutto perché molti pensano che i dipendenti pubblici è quello che sta allo sportello magari a non fare niente dalla mattina alla sera ma come dicevo prima tra i dipendenti pubblici ci sono ci dovrebbero essere anche i profili tecnici quelli che devono stilare i progetti per la messa in sicurezza o quello che va a controllare i fiumi che è stato messo poi tolto poi messo poi tolto per risparmiare cosa qualche centinaio d'euro quindi se noi andiamo a vedere gli investimenti pubblici italiani sono dal 2009 dal 2009 a oggi sono stati tagliati del 30 per cento che è un'enormità e nonostante l'aumento degli investimenti che c'è stato diciamo dopo la sospensione del patto di stabilità e crescita quindi diciamo col covid dal 2020 in poi nonostante questi gli investimenti pubblici sono comunque inferiori del 22 per cento stiamo parlando di 20 miliardi di euro l'anno di investimenti pubblici in meno che dal 2009 a oggi fanno 200 miliardi di euro se noi andiamo a prendere per buone le stime degli enti preposti per la messa in sicurezza di tutto il territorio nazionale sia dal rischio idrogeologico che da quello sismico parliamo di 120 130 miliardi di euro quindi poteva essere coperto tranquillamente senti Gilberto fare un discorso dire a Bruxelles hanno in mente anche per l'Italia la digitalizzazione e invece della cosa è un discorso troppo semplicistico troppo populistico come come la ritieni no carlo addirittura troppo poco io ne farei un altro l'unione europea ci sta dicendo che noi dovremmo prendere prendo le stime più conservative dovremmo spendere circa 300 miliardi di euro per fare il cappotto di polistirola alle abitazioni perché così la casa è verde consuma di meno quando un paese come l'Italia ma vale lo stesso per la Grecia che ha le problematiche similiare al nostro cioè un grande rischio idrogeologico e sismico noi dovremmo invece spendere 300 miliardi di euro per fare il cappotto di polistirolo quando ne potremmo spendere meno della metà per fare una cosa che forse è leggermente più importante per il nostro paese che come dicevo è la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e sismico che non vuol dire che non succede più niente la messa in sicurezza ma che riduci sensibilmente il rischio le conseguenze di vita chiaro e questo quindi cosa vuol dire che i politici si fanno dettare quello che bisogna fare in casa loro conoscendo conoscendo le peculiarità del territorio insomma del paese in pratica è un problema che noi abbiamo sempre avuto se i nostri politici sono stati sempre più realisti del re perché è vero che in linea teorica le regole stringenti di bilancio valgono per tutti i paesi europei ma nella realtà di fatto i politici italiani sono gli unici che hanno fatto quasi 30 anni di avanzi primari cioè di taglio della spesa pubblica non c'è un paese al mondo non nell'Unione Europea che ha fatto un consolidamento fiscale come dicono quelli bravi come ha fatto l'Italia è vero che le privatizzazioni sono state chieste a tutti ma nessuno ha privatizzato come l'Italia e questo vale per tanti ambiti di intervento basta pensare che la Germania per anni ha fatto finta di rispettare le regole europee poi smascherata dalla propria corte dei conti veniva fuori che ha speso in pochi anni 900 miliardi di euro di spesa pubblica nascosta dai bilanci pubblici mentre noi privatizzavamo il settore energetico con l'aumento dei costi loro nazionalizzavano le aziende energetiche nazionali quindi abbiamo un problema interno che è addirittura superiore a quello del vincolo esterno quindi abbiamo già capito che il discorso va contestualizzato e come dicevo in premessa non è una domanda ma è un'affermazione i problemi stanno molto più a a monte ehm dottori racci tornando alle zone alluvionate in questi giorni ecchio cosa si poteva fare eh che non è stato fatto ma guardi era la premessa che facevo prima che poi tra l'altro l'intervento di trombetta spiega anche bene che riguarda sempre questa tendenza a pensare di poter risparmiare dove non si può risparmiare in qualche modo se diamo per certo e io sono convinto che sia così che esistono rischi climatici dovuti all'iscaldamento globale perché questo credo che sia oggettivo se abbiamo contezza e anche questo è oggettivo tutti lo sappiamo che abbiamo aumentato l'impermeabilizzazione del territorio perché l'urbanizzazione nelle aree di pianura e collinari è molto intensa e quindi la portata provocata dalle piogge è aumentata nei fiumi perché è aumentato il diflusso superficiale ed è diminuita l'aliquota di impermeabilizzazione se è vero tutto questo la la soluzione logica è una dobbiamo allargare lo spazio per i fiumi cioè dovremmo pensare ad ampliare i alvei dovremmo pensare se non è possibile ampliare a creare le vasche di espansione io penso che il primo il primo progetto il più corretto sarebbe ampliare proprio proprio ampliare gli alvei fare degli espropri e andare ad ampliare dove questo non è possibile a monte di una città dove il fiume ormai è costretto nella città bisogna pensare alle vasche di espansione di fronte a tutto questo noi che facciamo lasciamo crescere il bosco nel torrente nel fiume che invece riduce la portata di questo fiume ecco perché facevo questa premessa perché ovvio che la necessità nostra è un investimento infrastrutturale per allargare la superficie a disposizione dell'acqua e poterne accumulare una quantità maggiore ma perché sappiamo che l'impermeabilizzazione da un lato è probabilmente un certo inasprimento delle quantità dei quantitativi di pioggia in breve tempo provocheranno sempre fenomeni di piena più intensi e più frequenti quindi quantomeno non facciamoci il danno di ridurre quello che già c'è quello che possiamo fare oggi per domani quello che potevamo fare nel 2022 e che potevamo fare nel 2023 dopo l'alluvione era almeno ottimizzare la defluibilità di questi fossi e di questi canali c'è su questo dovevamo spendere tutto ecco perché insisto che non è degli alberi la colpa dell'alluvione è della mancata analisi corretta del fenomeno alluvionale perché soprattutto il crollo dell'argine avviene nel momento in cui non è stato scavato alla base gli argini sono crollati e crollano magari c'è pure qualche animale le istrici ci fanno le tane possiamo aprire un dibattito molto ampio ma l'argine alla fine per lo più anche questa attraversata pare crollano perché per ore il fiume sonda perché l'acqua non riesce a defluire mentre a valle gli idrometri ci dicono che la piena non c'era perché a valle la piena non c'è arrivata non c'è mai arrivata verso ravenna la piena dell'amone e questa è la cosa drammatica perché l'acqua defluiva dagli argini è ovvio che se l'acqua sonda e sonda e sonda la lunga erode erode dall'alto verso il basso quando l'acqua comincia a creare un sorco di là poi la piena è continuata per ore e di là si scava un sorco che taglia totalmente l'argine è questo che accade quindi bastava evitare questo se è accaduto due volte a boncellino dove c'è l'attraversamento ferroviario per cui adesso per russi come dice l'amico paolo svegli interromperanno il traffico lì quando hanno ricostruito la seconda volta l'argine hanno avuto la bell'idea di alzarlo un po l'hanno fatto un po più alto questo ha ridotto questo fenomeno di sondazione in quel punto che intendente se lo sono potuto permettere e quindi questa volta non è crollato l'argine ma se l'alluvione se la piena fosse durata alcune ore di più sarebbe ricrollato anche lì perché già lì a ridosso della ferrovia ostacolato dal vero dal legname che era arrivato già lì stava esondando in abbondanza quindi con qualche altra ora di piena sarebbe di nuovo rotto l'argine lì il ponte della ferrovia va sostituito è ovvio che va innalzato ma queste sono quegli investimenti e quegli interventi che tutti si riempiono la bocca con la resilienza ma nessuno la progetta e nessuno la fa forse perché come dice trombetta nel frattempo abbiamo desertificato la macchina amministrativa non abbiamo mai assunto mi perdoni una una rivendicazione professionale non abbiamo mai assunto i geologi non abbiamo mai assunto il personale adeguato per poter affrontare questa situazione per cui oggi ci troviamo a mettere toppe ma almeno mettiamole avessimo almeno ripulito i fiumi forse avremmo evitato il grosso dell'alluvione questo è il concetto chiaro chiaro l'analisi e paolo svegli cosa si poteva fare non è stato fatto allora come presidente di comitato ho un grosso rammarico quello di aver messo d'aver detto boh adesso vediamo di individuare le responsabilità e poi andremo a fare noi stessi a chiedere noi stessi a controllare noi stessi come viene gestito il territorio in questi momenti qui credo che le persone debbano decidere sono proprio un momento di svolta della loro vita della loro vita personale devono decidere se sono i sudditi di un qualche impero e si devono adeguare a quello che gli viene detto che gli piaccia o meno oppure se sono veramente i padroni della propria vita e allora da cittadini liberi si devono e si possono organizzare chiedere conto delle persone che hanno eletto e fargli fare il loro lavoro perché ripeto ci sono lavori che sono vent'anni che andavano fatti e quelli non si fanno in venti giorni probabilmente anche se mi dicono che da qua in là ci sono dei lavori mezzi fatti che si finirebbero non in tempi biblici ma poi ci sono dei lavori come ha detto il geologo che sono fondamentali fare velocemente e allora a quel punto dico bene allora un comitato prende su e comincia a controllare solo lui il territorio hai tolto i sorveglianti del fiume regione va bene hai sbagliato allora adesso i cittadini che non fanno più i sudditi e non c'ha l'anella al naso e non si fanno portare in giro da qualunque frottola salta in mente di dire e solo perché viene ripetuta alla goebbels all'infinito ci dobbiamo credere cominciano a dire bene hai detto che pulivi l'albero del fiume guarda che l'hai detto dieci mesi fa i tronchi sono ancora qua dentro io gli faccio una foto ti mando una pec la mando ai giornali la mando a tutti perché il giorno che si rompe qualcosa te sei già pronto in rampa di lancio per essere attaccato perché non puoi dire che non lo sapevi quando si quando faenza la prima via che si è allagata perché una via si è allagata anche verso il centro è via ponte romano che non aveva nessun problema di di argini di alberi di niente sapete qual è il problema che ci aveva un un tombino che sparava come un geyser perché erano state cambiate le valvole di non ritorno perché erano danneggiate e non funzionavano ma i cittadini l'avevano segnalato quindi innalzandosi il fiume la valvole di non ritorno non chiude si riempie una strada qui i cittadini devono veramente decidere se fanno i sudditi e si fanno dire qualunque roba senza rispondere oppure la prossima volta che un sindaco mi dice non ci sono le risorse io gli dico benissimo allora adesso io vengo ti mando un giornalista ti mando qualcuno che ti inchioda lì e che ti fa il giorno che succede qualcosa mi dirai non c'erano le risorse però io vengo a vedere il tuo bilancio lira per lira centesimo per centesimo cosa hai speso per la tua gente perché anche qua mi fai un parco bellissimo a france mi ci metti le panchine nell'arredo urbano bellissimo 75 mila euro io credo che con 75 mila euro qualche alberino si sarebbe potuto togliere e si sarebbe potuto fare qualcosina di meglio anche il marzeno anche tutte le altre situazioni intorno e anche quelle valvole di non ritorno che non hanno funzionato poi hanno detto anche che c'erano delle pompe che finito il pieno si sono fermate le idrovore buonissime ma finita la benzina ahimè non si era pensato che potesse lavorare di più cioè qua veramente i lavori sono stati fatti coi piedi il cittadino deve cominciare a controllare se questo è il livello di sicurezza che ci sa garantire all'amministrazione i comitati devono cominciare a dire bene togli i sorveglianti tu lo faccio io poi ti mando le pec e poi pretendo che i lavori vengano fatti se no se no ti faccio causa perché non mi dai le elargizioni con sfinge decidendo tu se come quando cosa con delle dei rimborsi previsti ridicoli per chi ha avuto dei danni in campagna che non prevede per niente il mancato reddito ma mancato reddito ma questi gli ripaghi il pesco un peschino grande così quando è andata giù della roba così in produzione ma capiamo che ci sono 30 mila euro di danni sta dicendo sta dicendo che i cittadini devono cominciare ad aranciarsi rendendo rendendo conto però dopo facendo rendere conto alle amministrazioni e gilberto gilberto la eh tu che sei molto attivo a livello a livello appunto anche diciamo sociale no in questo senso ecco cosa che che riflessioni ti ti suscitano queste queste parole di del presidente dell'associazione tristezza e amarezza perché ripeto si tratta di problemi a volte che sfociano purtroppo in tragedie prevedibili ed evitabili anzi previsti ma non evitati il problema di quello che dice lui che ha perfettamente ragione magari vengono spese per rifare un parco per il decoro urbano quando ci sarebbero delle priorità maggiori proprio per una questione di una questione di di rischi no però è sempre il discorso della coperta corta cioè la verità è che al di là di alcune inefficienze che evidentemente esistono gli amministratori locali sono stati trasformati in curatori fallimentari questo io un po' semplifico ma sostanzialmente è quello dove se tiri la coperta da un lato la scopri dall'altro e poi mi dici ma è meglio avere i piedi scoperti che non la testa per carità va benissimo ma il sistema alla lunga così tanto non funziona è il sistema che non va bene io qua semplifico ancora una volta ma è questo che bisogna capire l'italia ha numeri alla mano tra inattivi disoccupati e italiani costretti ad espatriare in cerca di milioni di condizioni di vita milioni di italiani che non lavorano milioni parliamo di circa 13 14 15 milioni dipende da che fascia di età prendete ok e c'è un paese che va come stiamo testimoniando anche solo sul fronte del rischio idrogeologico e sismico a un paese che non solo va manutenuto cioè la montazione ordinaria non viene fatta va parzialmente ricostruito ma parliamo anche delle infrastrutture più elementari le strade le autostrade le rete ferroviarie che più vai dal nord verso il sud d'italia più spariscono le scuole gli ospedali ripeto il rischio idrogeologico e sismico quindi avresti tu potenzialmente da dare lavoro alle prossime 5 7 10 generazioni sarebbe una condizione perfetta per un nuovo boom economico ai milioni di italiani che non lavorano lavorano poco sottopagati e tantissimo lavoro da fare però ci dicono che manca il mezzo di comunicazione tra chi cerca lavoro e lavoro da fare cioè i soldi che è vero per tutto quello che abbiamo raccontato noi i vincoli europei l'assenza di una banca centrale che copre le stese del tesoro il problema a monte è quello che si trascina a valle tutto il resto poi possiamo decidere che è meglio spendere i soldi per una cosa ma che non per un'altra ma poi quando si riastringe io voglio vedere se è meglio dire è meglio costruire un ospedale o mettere in sicurezza quell'argine è meglio rifare il tetto a quella scuola o sfalciare quel canale di scuolo che adesso è occupato cioè non possiamo essere costretti a scegliere tra queste cose tutte ugualmente importanti o diversamente importanti in base a sensibilità personale o il territorio in cui vivi se dove vivi alle scuole ma non agli argini puliti per te conterà più quello o viceversa cioè è incredibile che in un'epoca in cui la produzione di moneta ricordiamolo sia da parte delle banche private sia dalle parti delle banche centrali è potenzialmente illimitata perché non c'è la convertibilità in oro in metalli preziosi quindi come hanno detto draghi e la lagarde una banca centrale non può fallire ma anche le banche private quando le famiglie vanno a chiedere i prestiti non è che ti danno i soldi di un altro correntista e mettono moneta nuova sono i prestiti che creano i depositi non il contrario quindi quando ci raccontano e lo fanno da 30 anni che mancano i soldi credo che sia la più grande bugia mai raccontata nella storia dell'uomo ecco guarda gilberto scusami ti interrompo che dicono dicono appunto mancano i soldi che tu ritieni è la più grande bugia che ha inventato l'uomo e su questo invece cercano trovano il modo per fare gli interessi dei soliti noti perché prendono non affrontano il problema ma lo risolvono all'opposto che non è una risoluzione dicono queste cose non si possono evitare assicurate gli immobili assicurate le case assicurate le aziende carlo uno spostamento di ricchezza noi abbiamo raccontato tutto quello che non funziona in questo sistema e danneggia la maggior parte della popolazione più del 90 per cento della popolazione italiana è danneggiata da questo sistema di funzionamento aumentano le tasse diminuiscono i servizi il lavoro è più precario i salari diminuiscono questa cosa impatta almeno su 9 italiani su 10 ma c'è una piccola percentuale di popolazione che invece da questo sistema si è arricchita e si sta arricchendo proprio a spese del restante è un travaso di ricchezza dal 90 per cento della popolazione al 10 per cento più ricco sta nei dati questa cosa non me la invento io se voi andate a vedere l'andamento della quota salari della quota profitti o dell'indice di ginio della distribuzione della ricchezza e del reddito in italia sta nei dati un trasferimento di ricchezza che a questi livelli non si vedeva dal 1800 nel mondo civile occidentale chiaro guarda una disamina chiarissima in pratica non affrontano il problema con la scusa che non ci sono i soldi ma da lì voglio dire mettono in in pratica un'opportunità per i soliti noti drenando appunto soldi dalla da tutti e da tutte le persone che hanno immobili attività varie di vario di vario tipo dottori racci ci avviamo alla conclusione che riflessioni che riflessioni possiamo fare in conclusione se riusciamo a non fare riflessioni troppo amare perché purtroppo la realtà è quella di cui che abbiamo descritto finora io credo che bisogna imparare dalle cose che non funzionano questo lo diciamo sempre una buona norma e mi auguro che dopo questa ennesima alluvione al di là di quello che il comitato proverà a fare per anche per cercare di far riconoscere gli abitanti colpiti da queste tragedie anche i danni che hanno subito perché altro che costringerci a fare un'ulteriore assicurazione per costringerci a pagare altri soldi io spero che comunque anche le amministrazioni pubbliche imparino cioè capiamo cosa abbiamo sbagliato perché ripeto ci sono progetti a lungo termine che non si faranno in sei mesi non è possibile farli in sei mesi al di là che spero che ci siano veramente i progetti non siano soltanto progetti di massima una delle grandi cose che l'italia non ha mai non ha mai imparato mai è quello di costruire una seria non sto disprezzando ma non ha mai costruito una seria macchina della protezione civile c'è la protezione civile esiste un dipartimento nazionale esiste la grande volontà dei volontari che partecipano e che fanno funzionare in caso di emergenza ma manca per esempio un corpo che invece si potrebbe creare che quando accadono le situazioni porti l'esperienza di altri territori studi quel territorio e vada a progettarli interventi necessari perché molti territori non ce li hanno queste risorse lo dicevamo poco fa mancano proprio i tecnici ma mancano drasticamente mancano ormai strutturalmente ogni taglio che facciamo un taglio nella carne viva per cui come diceva giustamente trombetta è più giusto pulire il fosso fare il tetto della scuola che se non lo rifai cade pure in testa ai bambini della scuola qual è la tragedia peggiore perché noi siamo qui stiamo ormai tagliando nella carne viva e se non se non riusciamo a svoltare questo non facciamo veramente nulla quello che mi fa amarezza è che si utilizzi certa coscienza certa coscienza corretta ambientalista per giustificare la mancanza di manutenzione questo mi dà proprio fastidio da naturalista e da tecnico mi fa fastidio nel senso che tu dica che bisogna essere a favore della vegetazione nel torrente è una cosa che mi dà i nervi perché se tu vuoi costruire un bel corridoio ecologico espandiamo questi torrenti e il corridoio e i boschi li facciamo ai margini e creiamo un ambiente veramente stupendo ma facciamolo però non facciamolo facendo finta e prendendo in giro la gente che lo stiamo facendo quando stai semplicemente risparmiando e non facendo la manutenzione ordinaria chiarissimo chiarissima la chiarissima la sua la sua analisi paolo svegli una presidente dell'associazione ricordo alluvionati consapevoli il suo intervento finale per come si è espresso prima immagino che voglia lanciare un invito un appello una chiamata è una chiamata credono si lancio un appello veramente a tutte le persone che hanno subito danni che adesso cominciano sono ancora molto arrabbiati perché molti di loro hanno creduto a al fatto che era 200 anni che non succedeva quindi hanno detto beh vabbè prossimo tra 200 anni ci penseranno i miei pronipoti e hanno creduto all'altra balla che era vi risarciremo tutto fino all'ultimo centesimo e qui si sono messi tranquilli e detto vabbè dai ma fido ecco io spero che la gente si svegli perché ora e si metta all'opera e capisca che ma per un motivo ma per un altro le amministrazioni tutte quella comunale quella regionale quella nazionale non sono in grado di far fronte però noi dobbiamo spingere e dire io qua non sono il tuo suddito e quindi pretendo partendo perché mi hai causato un danno quindi mi impunto su questo non che tra un mese mi sono messo a schiena gobbo preso il terzo lavoro per pagare i debiti che ho dovuto fare per sistemare calcio gente che a faenza ha sistemato casa per la terza volta ragazzi non so se siamo in grado tutti di capire cosa vuol dire sistema a casa tre volte in 16 mesi ricambiare tutti i mobili del piano terra eccetera eccetera non è banale quindi bisogna unirsi e lavorare insieme in maniera seria smettere di chiedere cortesie e dire io vorrei protestare però sottovoce non vorrei disturbare troppo no no io ti faccio le pec e ti denuncio se non fai i lavori che hai detto che facevi l'hai detto tu che li facevi adesso li fai però ecco questo bisogna che la gente cominci a capire se vuoi fare il suddito oppure il cittadino sovrano ecco appunto sta proprio per dire quindi un appello a togliersi i vestiti del suddito e vestire quelli della della del sovrano del cittadino sovrano che prima di tutto direi che è una condizione interiore quella di essere sovrano è una cosa che parte da dentro e siamo in chiusura io ringrazio molto il geologo roberto iraci grazie grazie per grazie a voi anche per questo spazio grazie al paolo svegli presidente del comitato alluvionati alluvionati consapevoli grazie gra presto magari organizzeremo una intervista per vedere gli sviluppi e come va e come procede questa chiamata alla responsabilità e al coinvolgimento dei dei cittadini che devono smettere il panni della dei dei sudditi grazie e grazie ovviamente a gilberto a gilberto trombetta grazie a voi è stato veramente un piacere grazie grazie e grazie a tutti e voi amici ascoltatori grazie a tutti Grazie a tutti.